Bisogna cercare di mettere in atto tutte le cose concrete, però oltre che a mettere dei soldi, bisogna anche riuscire a ridisegnare il welfare perché arrivino alle persone giuste. Perché il vero problema che c'è nei comuni, io lo vedo, spesso non è che mancano i fondi sulla povertà, sulle esigenze che possono avere le persone che non arrivano a fine mese, è che se non ridisegniamo tutto su quello che sono le nuove povertà, per cui spesso ne abbiamo parlato, i padri separati, le persone che per colpa della riforma Fornero non sono andate, non sono entrate nel sistema pensionistico, ma non hanno più il lavoro, noi mettiamo dei fondi che vanno alla fine a finire sempre più o meno sugli stessi e questi rimangono fuori dal sistema e giustamente quello che diceva è che è veramente un dato agghiacciante che in questo ci sono tantissimi bambini. No, c'è addirittura secondo me uno spazio di invisibilità, cioè noi ci occupiamo di alcuni casi qui che solleviamo noi, di persone molto anziarie che non hanno sussidie, è come se la società non li vedesse proprio, sono invisibili. A me spesso capita in Comune, infatti nel primo servizio quando diceva una delle intervistate c'è da vergognarsi, è vero, io che non ho mai amministrato, per cui non ho mai potuto gestire i fondi in un modo o in un altro, se non presentando ordini del giorno come opposizione, però quando vengono delle persone a chiedere aiuto, onestamente mi trovo davanti gente che mi dice non mi ammazzo perché ho un figlio, disperati che dormono in macchina, che non raccontano ai figli, che vanno alla Caritas a mangiare, ti si stringe il cuore e ti senti impotente, quando in realtà la politica potrebbe fare tanto. Per fare tanto bisognerebbe però essere scevri di destra e sinistra su questi temi, quando invece tristemente ancora ci sono dentro, io siamo in approvazione di un bilancio, ad esempio i comuni li fanno ora, avevo proprio portato come tema, avevo chiesto che fosse il primo tema del comune, quello delle povertà e delle nuove povertà, perché era uscito anche su una testata nazionale, i dati di Bologna, dove su dieci persone che vanno alla Caritas sei sono italiane. Avevo chiesto che messa come priorità mi è stato rimandato in commissione per discuterne poi, quando in realtà per me su queste cose bisognerebbe andare avanti uniti e compatti. Guarda, voglio sentire una...